Il Bitonto si abbona a respiri estremi e rigori più o meno netti e impatta in pieno recupero con un Manfredonia sassoso e fiero, rimanendo agganciato all'avversario di giornata. Mister Valeriano Loseto si affida ancora a Tarolli in porta, a Diga Centrale un Piratesco Gomes, Metronomo in mediana Pizzutelli, Fioretti, Marchitelli, Stantuffi esterni, la coppia di punta tutta tecniche sportellate Mariano Tedesco. Il collega a 5 sceglie Rossi fra i pali, Basualdo è forte dietro, Giacobbe a ricamartrame, Calemme e Cesario predaci davanti. Al ventesimo Duetto fra due punteri neroverdi, destro sbilenco. Tre minuti il cross perfido di Giacobbe sfera ad un sospiro dal palo. Vantaggio dei padroni di casa al ventottesimo, Fioretti imbecca Tedesco in area, Rossi lo vendemmia in uscita, dal dischetto il bomber brindisino Fred del portiere Doniano. Negli ultimi minuti occasioni pallide per gli ospiti, prima piazzato da sinistra, piattone al volo di Giacobbe, brivide nulla più, poi diagonale da destra di Babai che sdrucciola a lato. A rientro dagli spogliatoi, feroce la reazione dei biancazzurri. 180 secondi e mezza rovesciata di Tedesco, cuoio a forare le nuvole. Giro di lancette, inzuccata di Babai, blocca Tarolli. Ancora Mancino di Ernaiz dai 25, il goalkeeper Foggiano a branca impresa. Decimo, incornata di Conatè, Tarolli si rifugia in corner. Al quarto d'ora, stangata di Calemme da fuori, deviazione quasi ingannevole per Tarolli. Dopo la mezza, su Calemme minaccia, uscita spericolata di Tarolli che smanaccia in angolo. Corner corto al trentottesimo, sfera da Schick che con una parabola arcuata insacca l'uno a uno. A tre dallo scadere, rinvio sciagurato dalla difesa bitontina. Calemme con una botta chirurgica firma in ribaltone. In pieno recupero, Conatè interviene scomposto dentro l'area, Slavina su Figliolia. Il penalty di Clemente è perfetto e così le oncelli artigliano un punto che fa poco classifica, ma soprattutto molto morale. Grazie. Grazie a tutti.